Chi verrà qui a Piazza Prefettura cosa troverà oggi? Troverà due iniziative particolari che sono però in sinergia. Troverà il track, quello su cui siamo noi, un camion adibito a vera e propria sala riunioni in cui è possibile ascoltare tutta una serie di progetti che Sport e Salute, che è la società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita, promuove sul territorio. Altra attività che si fa su track è quella di ascolto, cioè creare dei momenti di ascolto e di dibattito con le associazioni sportive del territorio per valutare le progettualità che Sport e Salute propone ma anche per valutare le progettualità che possono arrivare dal territorio ed essere portate magari a livello nazionale. Sport e Salute è la società dello Stato che promuove lo sport di base ai corretti stili di vita, lo fa attraverso una serie di progettualità che possono essere dedicate al suo budget ma anche a budget che le vengono dati di volta in volta da ministeri e dipartimenti di appartenenza. Lo fa attraverso la promozione di diversi progetti in vari ambiti, parlo ad esempio dell'ambito scuola, parlo dello sport di tutti, parlo dell'attività sportiva all'interno dei parchi cittadini, progettualità sugli spazi civici di comunità, sui quartieri, sull'inclusione. E lo fa per valorizzare uno stile di vita attivo. Questo villaggio dove siamo oggi nasce anche per promuovere tutte queste attività e per promuovere la possibilità ai cittadini di conoscere sport e salute e di attivarsi con degli stili di vita attivi. Il villaggio nasce da un'idea di andare su 40 piazze per lo meno per il 2022, siamo partiti a giugno con la città di Torino, chiuderemo a ottobre a Milano e lo facciamo promuovendo tutta una serie di attività. Potete vedere qui sotto ci sono diverse attrezzature per far fare movimento e attività a giovani, bambini, ma anche al target degli over 65 e in generale alle famiglie. L'obiettivo è proprio questo, sensibilizzare la popolazione allo star bene. In questo momento particolare ancora di più perché l'evento cade all'interno della settimana europea dello sport che è una settimana con un arco di periodo temporale in cui si promuove a livello europeo, quindi a livello comunitario, la politica dello stare in movimento e degli stili di vita sani e attivi. Un ringraziamento particolare per questa tappa di Catanzaro al sindaco Nicola Fiorita, all'assessore allo sport Cosentino che ci hanno dato l'opportunità e tutto il supporto per realizzare questa giornata e questo allestimento e fare attività di promozione dell'attività sportiva presso la cittadinanza di Catanzaro. Fino a che ora sarete qui a Catanzaro a promuovere l'attività sportiva? Siamo qui fino alle 20, ovviamente siamo disponibili sia per far provare le attività sportive ma anche per ascoltare e per dare indicazioni su tutti i progetti che Sport e Salute promuove e propone per le associazioni sportive e per gli organismi sportivi. Fino a che ora sarete qui a Catanzaro a promuovere l'attività sportive e per l'attività sportive e per l'attività sportive. Fino a che ora sarete qui a Catanzaro,